In Domenia, il 21 settembre del 2014, del Vangelo di San Matteo. In Louta, Gesù già dita si dice poi questa parabola. In Louta, Gesù già dita si dice poi questa parabola. In Louta, Gesù già dita si dice poi questa parabola. In Louta, Gesù già dita si dice poi questa parabola. In Louta, Gesù già dita si dice poi questa parabola. In Louta, Gesù già dita si dice poi questa parabola. In Louta, Gesù già dita si dice poi questa parabola. In Louta, Gesù già dita si dice poi questa parabola. In Louta, Gesù già dita si dice poi questa parabola. Che la nessuno è stramba, ecco, ma invece è una parabola molto bella, molto chiara, che è la ragione del Signore Dio. Ecco, possiamo capire una bella roba. Dando tutti. Possiamo capire che il Signore Dio lo chiama a tutti. Ecco, questa è una bellissima roba. E poi da un'altra roba che non voglio considerare la pesantezza dell'urriere. Ecco, ma la bellezza del don che lei che sta chiamata di venire a lurare te sovigna. Ecco, ma io ho detto, in queste nostre famiglie, ecco, in questa vita di un preve, o di un frate, o di una suora, ma io ho detto, se sente, ecco, dire, ma che pesa, che pesa, che pesa, che le questa vocazione, insomma, ma che fa dia, che le ducidis far questo, far quel, ecco, se sente questa chiamata ad escempis, invece, non voglio assane sentirlo cosciuta. Ecco, le donne la chiamata di essere preve, di essere frate, di essere un padre di una famiglia, di una mare, ecco, invece se le fa dia, se sa bene, ecco, le donne questa chiamata, che il Signore Dio ne fa. E dopo, dopo, va al conto, se sente dire, non c'è le nostre famiglie, o non c'è le preve, io ho fatto questo, tu non ti ha fatto quello, ecco, comunque, d'auti, ecco, sono un mingola a questi personaggi di questa parabola. Ecco, la vocazione del Signore Dio, l'endon, ecco, ecco, ne sape sempre sentirlo, che proprio è un don, una bellezza. Ecco, ed appunto, un'ultima roba, cari frades, ecco, sentiamo questa parabola che è invidioso, ecco, chi che ha l'uraduto il Dio, è invidioso, perché il Signore Dio ha già dato lo stesso pavimento a chi che ha l'uraduto il Dio. Ecco, questa lebiota invidia per la generosità del parone. Ecco, e allora, cari frades, vogliamo capire che il primo è che ha il bisogno di questa grazia, di questo amore grande del Signore Dio, che non ha confinze, che non ha misure, sia proprio noi. E allora, non vogliamo essere invidiosi, perché il Signore Dio ha il perdono e l'accoglie tutti. ecco, noi dobbiamo sentire in tutte le nostre comunità che non va mai a messa, ecco, si sento proprio giudicare. Invece, il Signore Dio l'accoglie tutti, e qualcuno ha sanno essere contenti di questo. E allora, cari frades e sore, ecco, scusate un bene la parola del Signore Dio, che anche ne ha dato, ne ha donato, ecco, e soprattutto, e soprattutto apprezzo questa generosità, questo amore grande del Signore Dio. E allora faccio un festa, perché il Signore Dio l'è buono, ecco, e soprattutto perché, in verso di noi, le generose, noi che non abbiamo più di bisogno degli altri. Ecco, stagge bene e buona settimana. e buona settimana.